Ciao a tutti, popolo del tubo, e bentornati in un nuovo test map, un test map per console e per PC. Oggi vi porto una mappa che si chiama Castiglia e Leon, tipo in italiano, sembra il nome di un cartone animato. Comunque è una bella mappettina per console e per PC, una mappettina spagnola di un certo Alberto, se non vado errato. Una mappettina, come vedete, sia da multiplayer, ma volendo anche da single player. Nulla vi vieta di giocarci da soli, però ecco, se cercate una mappina per il multi, con tante cose da fare, tantissime produzioni, questa è la mappa che fa per voi. Prima di cominciare, io vi ricordo in descrizione la mia piattaforma viola, dove sono in live tutte le mattine e tutte le sere, se avete prima potete abbonarvi gratis, aiutarmi e sostenermi col canaletto. Vi ricordo il mio secondo canale, Robimelo81 Extra, dove parliamo di calcio, di Formula 1, di sport, di videogiochi vecchi, nuovi, passati, presenti e futuri. E poi, la mia affiliazione Giants Partner, se volete acquistare il nuovo DLC presentato ieri, ovvero l'Oxbo Pack e 80 altra robina, potete farlo dai miei link qua sotto e aiutarmi così a raggiungere la Partner Oro, che è il mio sogno ed è ancora molto molto lontana, cari ragazzi. Ma detto questo, iniziamo un po' a vedere la mappa. Iniziamo con il PDA, come vedete, non è che mi piace molto il PDA, innanzitutto, non tutti i campi sono numerati, meno male che il Farmland invece sì, il Farmland è numerato bene, i campi no, però va bene. Non mi piacciono molto questi campi a forma di macchia di caffè, avete visto quando pegate la macchia di caffè sulla camicia, ecco, non è che mi piacciono tantissimo. E per quanto riguarda i prodotti, abbiamo una marea di nuovi prodotti. Oddio, i prodotti da campo in realtà sono soltanto due, quindi alfalfa e segale. Mentre gli altri prodotti non sono altro che le olive intensive, non so se avete presenti le olive intensive del gioco, modificate. Quindi abbiamo le mele, l'arancio, che qua è chiamato arancione, ciliegie, prugne, limoni, melograni, mele cotogne, ghiande, castagne, mandorle e noci. Il tutto però non in forma di albero, ma in forma di, diciamo, frutteto intensivo. Adesso a me non mi sembrava una cosa molto realistica, invece in live ieri mattina, quando abbiamo provato questa mappa, mi hanno detto tutti che in realtà esistono i frutteti intensivi di questa roba qua. Quindi esistono un po' di tutto, insomma, i frutteti intensivi e quindi va bene così, quindi me la faccio andare bene. Sicuramente è meglio e meno frustante, frustrante, scusate, frustante, pare che uno si mette lì con la frusta e ve frusta. È meno frustrante rispetto alle olive con l'ombrella, che veramente raccoglie con le olive con l'ombrella, finché qualche modder non si inventa qualche altra raccoglitrice. E' meglio così, a livello di intensivo, che ammettese lì con le olive con l'ombrella, veramente. Questo è tutto quello che c'è da dire sul PDA. Adesso, quando andremo a fare un giro veloce della mappa, vi dico subito che toglieremo le stazioni di carico e le stazioni di scarico. Vedete quanta roba c'è di carico e scarico, le vedete? Non finimo più, raga, rischiamo veramente che il video dura sette ore. Quindi, tanto, tanto, ragazzi, le stazioni di carico e di scarico le potete tranquillamente vedere qua, quando andate a comprare o a vendere un determinato prodotto. Se c'è scritto acquisto, vuol dire che il gioco vi acquista quel prodotto a quel punto vendita. Se c'è scritto vendita, vuol dire che voi potete comprare il gioco che vende a voi il prodotto in quel punto vendita. Quindi è inutile, ragazzi, che ci mettiamo a vedere i punti d'acquisto e vendita. Perdemo solo che tempo, ok? Quindi, cominciamo velocemente, io direi di cominciare da sotto, che la zona è meno sparpagliata. Facciamo, iniziamo tutto con il contorno, ok? E piano piano arriviamo al centro. Allora, andiamo veloci, però, ragazzi. Questo è un pascolo per le pecore. Se avete letto la descrizione, la descrizione parla di animali nuovi. In realtà hanno solo rinominato alcune razze. Purtroppo non c'è la novità che abbiamo visto su quell'altra mappa inglese dove c'erano i vitellini, quelle robe lì. No, hanno semplicemente rinominato i vari tipi di animali. Qui abbiamo un lungo e grosso pascolo di pecore. Qua abbiamo, invece, quello dei maiali. Come vedete, anche i maiali sono stati modificati. Qua non ci sono quelli rosa. Ad esempio, qui abbiamo il maialino iberico e il maiale iberico. Lui dice che questo è un maialino, ma l'ha solo rinominato. In realtà lo chiama maialino perché è quello giovane ed è zero mesi. E questo maiale perché è da 12 mesi. Ma non cambia niente, ragazzi. È lo stesso maialino, lo stesso in 3D. Solo che questo ha zero mesi, questo ce n'ha 12 e ha cambiato il nome. Quindi non vi fate ingannare. Questa più qua è la stalla delle mucche. Anche le mucche, vedete, sono state modificate e rinominate. Qua non abbiamo, ad esempio, la bianconera, la vacca da latte. Abbiamo la vilena. Queste sono tutte da carne. Questo è il pascolo dei mucche da carne. No, questo è da latte, credo, forse. Non lo so se questo è da latte. Perché questa nel gioco è l'alpina e fa il latte. Ma qua mi sa che l'hanno modificata da carne, forse. Non lo so, sono prove che dovete fare voi, ragazzi. Io attualmente non mi sono messo a giocare, insomma. Poi, qua giù abbiamo le prime produzioni, perché ce ne sono veramente tante. Abbiamo un biogas che in realtà è una produzione e un biogas. Dice che vuol dire? Vuol dire che questo è il biogas, se vede, proprio. Dove voi ci mettete in silato, liquami e concime e vi fa digestato. Quindi in tutto e per tutto questo è un biogas. Mentre questa è la compostiera, la compost master. Questa serve per fare il compost. È un biogas solo a livello visivo. Infatti, se voi ci andate sopra, vedete che con paglia, paglia di segale, foraggi, barbabietole, patate tritate, carote tritate, alfalfa, potete fare il compost. Vedete? Il compost poi vi servirà per le serre. Non solo, se non avete voglia, il compost può essere anche acquistato allo shop. Poi andremo a vedere tutte le varie cose che potranno e possono essere acquistate allo shop. Corriamo, corriamo. Qua abbiamo la produzione di pellet. Ci mettete, adesso vi faccio vedere, qua ci mettete il cippato e la corteccia di albero e fate pellet. Dice Robby, dove si fa la corteccia di albero? Adesso ve lo faccio vedere. Prima però vi faccio vedere anche i pallet di pellet, figli di Apollo. Poi, quello che abbiamo visto prima, la corteccia di albero, si fa in segheria. Qua su in alto, sentite che rumore, la segheria. Con il legno potete fare assi, cippato e corteccia di albero. Eccola qua la corteccia di albero, ragazzi. Eccola qui, corteccia di albero. Poi, 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 ragazzi. Andiamo sempre di sotto, se no ci perdiamo. Qui vedete l'icona dello shop, ma in realtà non è assolutamente lo shop. È una fabbrica di acquisto o produzione dei mangimi per gli animali. Visto che qua il modder si è sbizzarrito con il mangime degli animali. Qua potete fare alimentare gli animali con tantissima roba che può essere sia acquistata allo shop, sia prodotta e sia acquistata qua. O prodotta qua, addirittura. Prodotta qua, da questo punto qui. Vedete, voi qua potete fare il mangime composto, la razione mista, la razione mista di erba medica o il cibo per suini. Vedete che il mangime composto vuole un sacco di roba, cereali tritati, cereali proteici tritati, farina di soia, eccetera, eccetera. Tutta questa roba, sia cereali tritati, proteici, farina di soia, può essere o acquistata o prodotta. E adesso, piano piano, andremo a vedere dove e come. Poi, sempre all'esterno, segheria l'abbiamo vista, qua, qui ragazzi devo aprire una piccola parentesi. Qui abbiamo quelle che in gioco sono in realtà due serre, quelle dei pini cembri e del mulino avila. Non del mulino avila, scusate, dei pini di resina. Scusate, sono un po' rincoglionito il caldo. Fanno 40 gradi già in casa mia. Dicevo, pini a cembri e pini di resina. Qua, come vedete sul campo, ho fatto una prova anche, questo è il campo numero due, qua in realtà non c'è niente. Ho fatto una prova a metterli giù per vedere se magari erano buggati questi. Qual è il problema? Il problema è che queste sono serre, cioè, in teoria, voi mettete cacca e questi pini qua vi fanno le pigne. Qui si chiamano pignoni, ma sono pigne. Pigne che poi vi verranno spawnate proprio qua, da queste parti qua. In teoria il trigger per mettere la cacca dovrebbe essere questo, ma la cacca non si scarica in alcun modo. Infatti vedete che mancano proprio i trigger, i marcatori per terra. Quindi credo che questo sia un bug di questa versione. Allora, adesso vi chiedo nei commenti, se trovate un modo per far funzionare queste serre, scrivetelo qua sotto. Altrimenti sappiate che, se proprio non ce la fate a mettere la cacca qua, sappiate che è un bug e sicuramente il modder sarà già facendo uscire un update. Quindi se state vedendo questo video in futuro, quando già è uscito l'update, probabilmente a voi queste serre già funzioneranno. Comunque sono due tipi di serre. Questa qui che fa le pigne e queste qua, che invece sono pini da resina. Ci mettete in letame e vi fanno la resina. Questi pini qua sono posizionabili. Li potete mettere anche dove vorrete voi, perché sono in tutto e per tutto delle serre. Poi andremo a vedere quando parleremo dei posizionabili. A proposito di serre, qui ne abbiamo tantissime. Abbiamo sia le serre ovali, che sono in questa parte qua, sia le serre rettangolari, che sono qua. Sono praticamente identiche, sono solo diverse dal punto di vista visivo. Qua vi faccio vedere, vi ho già spawnato tutti i prodotti delle serre. Quindi abbiamo il cavolfiore, abbiamo le zucchine, abbiamo il pepe, poi abbiamo l'aglio, qui abbiamo il cetriolo, le carote e i cipollotti. Quindi potete scegliere questi prodotti qui, oltre ovviamente ai soliti prodotti, fragole insalata e pomodori. Quindi, quello che non vi ho detto è che le serre vogliono il compost. Quindi, come vedete, le serre vogliono il compost. E basta, né acqua, né acquetta, né acquina. Vogliono semplicemente il compost che viene messo qua dentro. Vedete? C'è anche la texture, lo mettete qua dentro. Poi, andiamo un pochino avanti, qui abbiamo un miscelatore per il cibo degli animali, perché questa, diciamo, ragazzi, è la vostra farm, la vostra farm è di partenza. E in questo miscelatore qui voi potete fare i cereali tritati, uno degli ingredienti che servono appunto per fare il pastone fatto bene per i maiali, per le vacche. Come vedete qua potete tritare ogni tipo di cereale proteico o cereale normale, ma anche la patata, la carota, la barbabietola da zucchero, eccetera, eccetera. Potete addirittura fare direttamente il mangime composto per le vacche o il cibo dei suini. Insomma, potete fare un bel po' di robina. Questa, come vedete, è l'officina della vostra farm, guardate che bello qua. E qua il modder ci ricorda che lui è lo stesso della RDC dei farming 19, che la mappa è simile, ma, diciamo, non è la stessa. E qui vediamo tutte le varie versioni delle sue mappe, eccetera, eccetera. Insomma, è un memorandum quella stanza lì. Qua abbiamo tutti i mezzi di partenza, abbiamo uno stoccaggio del carburante, di fertilizzante, abbiamo un silos. Insomma, tutte cose che conoscete già. Adesso non ci mettiamo a vedere sta roba qui, perché sennò non finimo più. Poi, qua, le serre e qui andiamo in centro città con panetteria. Panetteria, ragazzi. In panetteria potete fare, oltre a pane, anche i cupcake. Eccoli qua, vi ho fatto vedere anche il pallet di pancake. E qua, invece, c'è la... proprio... Questi sono i vari punti vendita della città. Vi faccio vedere anche la pasticceria, dove possiamo fare varie torte, tra cui anche un dolce alle mele cotogne. Che eccolo qui, ragazzi, eccolo qui. Il centro paese è un po' strettino, ragazzi. Occhio, perché non è che ci andate bene con i mezzi troppo grandi, eh. Occhio, occhio, occhio. Poi, qui abbiamo le serre che abbiamo viste. Qua abbiamo la nostra... una casa. Una casa per dormire, che la casa non è in farm, è qua. Casa e garage. Dove iniziamo, tra l'altro, la partita dove veniamo spawnati. E proprio dietro la casa c'è la formaggeria, qua. Dove possiamo fare formaggio di latte vaccino, formaggio di pegola e il tofu con il latte di soia. Quindi abbiamo vari prodotti caseari, sentite come parlo bene, a nostra disposizione. Sartoria, dove portate il tessuto e vi fanno i vestiti. Poi, qua abbiamo questa fabbrica qua. Questa qui, che si chiama Valladolid Perseguito, che è una fabbrica di cereali. Ci portate farina, miele e uvetta, e vi fai cereali e l'uvetta. Farina, miele e prugne secche, pota. Pota non è un'espressione del nord nel gioco, ma pota qua significa prugne secche. Poi abbiamo anche la possibilità di fare dei biscottini con... Qui loro lo chiamano noci, ma non sono noci. È frutta secca, è frutta secca mista che si produce poi in un altro punto, in un'altra produzione, che poi vi farò vedere. Poi, qui che cosa abbiamo? Ho confessionato Palencia. Confessionato Palencia dove possiamo fare i succhi. Quindi è la fabbrica di succhi. Succo duva di mela di arancio, di ciliegia di prugna, di limone e di melograno. Qui non menagramo, eh. Melograno. Poi andiamo un po' velocemente. Qua abbiamo il mulino per lo zucchero, che in realtà è la produzione di zucchero. È lo zuccherificio di default del gioco, né più e né meno. Qua abbiamo il negozio degli animali, che serve sia per acquistare il bestiame da questo trigger qua, ma anche, ragazzi, per vendere i vostri foraggi che non usate, che non vi servono più da questo punto qua. Ecco, qui potete acquistare o vendere i foraggi. No, potete solo acquistarli da quello che vedo. Sì, da quello che vedo potete solo acquistarli, perché vedete c'è l'icona dello shop. E quindi, credo che qua potete acquistarli. Forse qua li potete vendere. Ma no, però qua non ci sono i foraggi. Allora, forse qua acquistate la roba liquida, quindi fertilizzante liquido, diserbante, liquido per il liquido, questo qua, per gli insilati. Quindi, ecco, qui acquistate i liquidi e qua probabilmente acquistate il fertilizzante solido, i semi. Insomma, è un mercatino agricolo, è un mercatino agricolo, scusate, mi ero un attimo confuso. Poi, qua abbiamo varie zamora, che è un'altra produzione, produzione di uvetta. Quindi ci mettete uva e vi fa l'uvetta, ci mettete le prugne e vi fa le prugne secche. E poi ci mettete vari tipi di prodotti e vi fa i prodotti secchi. Quindi ci mettete le ghiande, le castagne, le mandorle, le noci e le pigne e vi fa i prodotti secchi. Quindi, poi, ha pensato a tutto il mod, per chi ama le produzioni, raga, questa mappa è il paradiso. Finalmente il vero concessionario della mappa, grande, grosso, immenso e non brandizzato. Quindi non c'è nessun brand in particolare. Eccolo qua, bellissimo e grossissimo. Eccolo qui, il concessionario della mappotta. Poi, latteria, la latteria dove potete fare burro cioccolato, ma anche il latte di soia. Lo yogurt di latte normale, lo yogurt di latte di pecora e lo yogurt di latte di soia. E questa è la bellissima, il bellissimo caseificio, anzi. Più che latteria, sì dai, caseificio, chiamatelo un po' come cavolo vi pare. Poi, 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 questo è il frantoio, né più né meno ragazzi. Il frantoio, che quindi fa olio d'oliva, di girasole e di colza, né più né meno. Molto bello questo frantoio stile europeo, è un peccato che non ci sia tra i posizionabili di default, dove c'è solo il frantoio, quello americano, che non è che me fa impazzire, è troppo grande per i miei gusti. Poi, carpenteria e confezioni Soria. Confezioni Soria è la fabbrica di tessuto, quindi ci portate lana e vi fa il tessuto. E proprio davanti abbiamo la carpenteria Leonas, che è la carpenteria, appunto, lo dice il nome. Vedete? E fate i mobili. Poi, vediamo se abbiamo visto tutto, credo. Dalla parte alta, credo proprio che abbiamo visto tutto. Dalla parte bassa abbiamo visto tutto. Credo che a livello di produzioni abbiamo davvero visto tutto. Parliamo di posizionabili. Per quanto riguarda i posizionabili abbiamo veramente di tutto. Sia a livello di capannoni, dove abbiamo questo bellissimo garage con officina. È un peccato che qua non c'è spazio per mettere la roba. Ecco, vi faccio vedere qua sul campo un attimino. Poi abbiamo, a livello di silos, ecco, come vedete abbiamo di tutto. Poi abbiamo, a livello di container, vi manca la voglia di mettere la roba. A livello di attrezzi no. E a livello di casa pure abbiamo una bella casina. Per quanto riguarda le produzioni possiamo mettere solo il miscelatore per tritare le cosine. Poi abbiamo, come punti vendita niente, come serre abbiamo, appunto, le serre tonde, le serre quadre, ma anche, appunto, i pini cembri e i pini di resina. Che il pino cembro, vi ricordo, vuole le tame e fa le ghiande. E questi invece vogliono di serbo e fanno la resina. Attualmente, ripeto, queste mi sembrano buggate perché non sono riuscito a farle funzionare, ma vedrete che a breve sicuramente se sono buggate uscirà un update. E qui vediamo, ragazzi, tutti i frutteti intensivi. Il modello 3D è sempre quello, è quello delle olive. E quindi abbiamo mele, aranci, eccetera, eccetera, mandorli, noci. Che poi possiamo raccogliere dalla robina che troviamo allo shop, che poi vi faccio vedere. Animali. Abbiamo varie stalle. Stalle per bovini, stalle per bovini grandi. Attenzione perché, no, scusate, bisogna capire una cosa, scusatemi un attimo, mi stavo confondendo. Ci sono le stalle di default, che funzionano di default, quindi non le usate. E ci sono le stalle, quelle modificate, che accettano invece tutti i mancimi che il mapper ha preparato. Quindi mi raccomando, buttate giù le stalle di default. Questa è per i bovini da carne, vedete? Questa è per i bovini da latte, vedete? Dove vedete la vacca bianconera è per il latte, vedete? Vedete? Lo scrivono anche qui. Fienile per l'allevamento di mucche da carne. Queste da latte, quindi da carne e da latte. Mi raccomando, vedete? Questo è molto importante. Poi cavalli. Anche i cavalli hanno delle stalle particolari. Una piccola e una grande. Adesso ve la metto giù perché qui c'è da spiegare una cosina. Allora, i cavalli, se utilizzate queste stalle qua, non solo vi daranno un supporto economico come è il gioco di default, ma vi produrranno anche il crine di cavallo che potete vendere per avere dei soldini. Quindi, ragazzi, il modder si è inventato sta robina qua. Quindi, una volta che i cavalli avranno, diciamo, pappato, che saranno in salute, aumenterà anche la barra di crine di cavallo, che potrà essere venduto per avere, appunto, un riscontro economico. Anche gli altri animali hanno le stalle personalizzate. Quindi, porcini, pecore, vedete? Pecore sia da latte, anche qui, che da lana. Quindi, attenzione, guardate sempre la descrizione. E poi anche le gallinelle, che così poi le gallinelle, con la stalla modificata, le potrete nutrire un po' con tutto quanto. Poi, anche le decorazioni, c'è una marea di roba sulle decorazioni. Guardate qua, ecco, muri, muretti, recinti. E anche, a livello di progettazione e paesaggio, abbiamo una marea di vernici, quasi tutte quelle presenti sulla mappa. Per quanto riguarda quello che contiene lo shop, abbiamo un carro miscelatore fatto apposta, proprio per fare la razione mista con tutta la roba che avete nel gioco. E poi abbiamo le varie raccoglitrici della Broad, modificate per accogliere i vari prodotti intensivi. Mele, aranci, ciliegie, poi, insomma, vedete un attimino dalle iconcine sotto. Poi abbiamo i vari carri per contenere i vari frutti. Vedete? Poi abbiamo uno span di cacca modificato proprio per quei frutteti lì. E così come una Ardi Mercury modificata proprio per quei frutteti particolari. Abbiamo carri per gli animali modificati. Modificati abbiamo balle quadre di alfalfa, di erba medica, piantine modificate e poi vari sacconi. Ve l'avevo detto che potete anche comprare la roba se non avete voglia di produrla. Quindi abbiamo mangime composto, cereale tritato, cereale proteico tritato, farina di soia, mangime minerale, patata tritata, barbabilità di zucchero, carota tritata, razione mista, compost e paglia di frumento, rotoballa d'insilato eccetera eccetera. Insomma ragazzi potete acquistare praticamente di tutto. Ragazzi sono andato un po' veloce ma avete visto? Cioè nonostante siamo andati veloci i 25 minuti di video. Se correvo, se non correvo ragazzi era la fine. Stavamo qui un'ora. Invece il tempo è denarov. Quindi spero che questo video sia stato di vostro gradimento. Spero di aver fatto un buon lavoro. Fatemi sapere nei commenti se vi ho convinto, se la scaricherete, se gli darete un'occhiata oppure se proprio non vi piace. Insomma commentate. L'importante amici vi chiedo un piccolo gesto che non vi costa niente. Quello di mettere un like al video in questo preciso istante che per me è importantissimo. Condividete ragazzi, iscrivetevi. Ringrazio gli amici abbonati. Anima vita e cuore del canale. Cos'entrano al canale di sostenersi andare avanti e di portare tutti questi contenuti. Amici vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!